qui è il vostro Pierluigi Pardo che vi parla e vi dà il benvenuto a questa sfida di Premier League non potevo essere da solo oggi, come sempre con me, c'è Stefano Nava grazie Pier, e un saluto anche da parte mia e che dire sulla partita, mi aspetto un match combattuto, giocato a ritmi elevatissimi con azioni da gol da una parte e dall'altra la Premier è la Premier vediamo come scende, respinge di pugno intervento falloso, gara subito calda vuole il controllo nonostante il pressing Douglas Costa hanno preso l'estero difensivo che mancava dal punto di vista tattico a questa squadra oggi abbiamo già la possibilità di vederlo in azione per la prima volta con la sua nuova maglia cercavano un giocatore con delle caratteristiche ben precise l'hanno individuato in lui solo il tempo ci dirà se si è ratato o no, è un acquisto azzeccato avevano bisogno di un'ala, un uomo capace di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica la scelta ha ricaduto a scuola attenzione, occasione se riparte col calcio d'angolo occhio al pallone in mezzo hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati avanti dopo pochi minuti partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo ha dovuto solo metterci la testa hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Scherzi Martinez non ferma il gioco l'arbitro ha dato il vantaggio fermano la manovra avversaria Oskar Baragna Metri Fraser Occhio al contrapiede qui Calcio di rigore che sembra indiscutibile Baragna è stato clemente in questa occasione poteva starci credo anche il cartellino ha commesso un brutto fallo ma andrà anche peggio e c'è l'errore cosa ha sbagliato Pierre Occhio cerca l'area di rigore va ballone interessante vale gol per Douglas Costa non trattiene occhio ed è rete una serie di passaggi ben calibrati di misura grande precisione ha permesso loro di segnare il potere c'era arrivato ma non è riuscito a evitare il gol hanno increvettato il vantaggio portandosi sul 2 a 0 Martinez punta l'area buona l'intuizione qui palla allontanata pallone che finisce in angolo occhio al corner buono l'intervento del difensore che spazza via occhio al traversone la mette in mezzo pericolo scampato decisivo il difensore c'è il tiro della distanza colpito il pallone dal difensore ha intercettato bene il passaggio non ci voleva molto gran palla in mezzo ci sono metri a disposizione difesa che fatica a spazzare via palla ha spazio per andare palla messa dentro pallone tranquillamente fra le braccia del portiere è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento the light occhio alla ripartenza Martinez incredibile il gol che si è mangiato qui Stefano ha centrato il portiere con tutto lo stack della porta a disposizione errore grave intervento tempestivo del difensore che intercetta c'è spazio davanti a sé occhio al pallone giusto trova la botta attenzione la palla è lì palla che esce sarà palla laterale murato dal difensore a toccare per ultimo il difensore e dunque calcio all'angolo corner battuto in mezzo miracolo del portiere su questa deviazione di testa attaccante colpito a porta sicura prodigioso il riflesso la allontana di pugno cerca la porta oscar baragna metri verso l'area respinge di pugno sta facendo fatica a correre deve sentire parecchio dolore non sembra in condizione di continuare oscar si avvicina all'area può andare recupera palla intercettando bene il pallone straordinario stacco di testa la girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol grande traiettoria ci ha messo molto del suo esclusivo nello stacco sfortunato quel potiere aveva quasi intercettato il tiro era lì ma la palla è entrata allo stesso un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara baragna metri arbitro che dice che può inizia la ripresa del match finora davvero a senso unico occhio cerca l'area di rigore c'è spazio per andare la mette in mezzo l'Everton secondo quanto riportato dal giornale avrebbe individuato il prossimo obiettivo di mercato e vedremo ovviamente se riuscirà a chiudere la trattativa è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato non c'è da stupirsi dunque che ci sia la fila per prenderlo portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro perdono il pallone Douglas Costa ci sono metri a disposizione Oscar prova la botta un tiro davvero inguardabile l'allenatore è costretto al cambio per sostituire il giocatore infortunato Cierci prova a cambiare gioco buono il contrasto ma l'interessante nello spazio comodamente recupera il pallone Douglas Costa prepariamoci a rassistere alla partita di Premier League dei padroni di casa trasmessa come sempre dei EA Sports occhio a questo lancio sarà battuto dunque un calcio di punizione c'è aria di cambio nel tiro c'era la potenza qui ma il portiere è stato sicuro non si è fatto gogliere in preparato Cierci punta l'area bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla EA Sports vi offre la prossima gara che sarà in trasferta di questa squadra impegnata nella Premier League Frazer guadagna metri verso l'area bravi qui a bloccare tutto Oscar siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora sta avanzando palla in mezzo dopo un buon intervento Martinez buona rinquisizione qui l'ha lasciato andare via senza la minima posizione prova ad andare ha provato a piazzarla buona l'idea meno l'esecuzione non era facile inquadrare la porta da lì conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi il portiere sostituzione in vista Pier ciasta mancano dieci minuti alla fine della gara vedremo se in questi minuti finali cambierà qualcosa ma insomma gli equilibri mi sembrano abbastanza chiari si avvicina all'area Martinez occasione la delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione a volte capita di sbagliare non deve abbattersi secondo me non ferma il gioco l'arbitro ha dato il vantaggio buona l'idea qui comodamente recupera il pallone Oscar ottimi i suoi passaggi oggi c'è spazio per andare cerca addirittura la porta occhio al traversone rossa verso il centro attento qui il difensore che allontana si aprono spazi invitanti buon pallone filtrante palla forte e rasoterra eh sì c'è il tocco c'è l'autogol nulla da dire non si darà pace per questo errore ma purtroppo sono cose che capitano siamo 3 a 1 e magari non finirà così triplice fischio così può bastare grazie a tutti grazie a tutti